buongiorno signore e signori sono duca di baionette mi occupo di scrittura creativa la domanda di oggi ci occupiamo al solito di una domanda tanto per cambiare è mi scrive riccardo e dice ciao duca il personaggio che fa da filtro può essere più di uno magari la storia raccontata da più punti di vista tratti ottimo lavoro queste lezioni sono molto interessanti va bene allora prima prendo un sorso della bevanda suprematista bianca perché mostra ultra white quindi suprematista bianca altrimenti se sì se si sono sbagliati loro a come chiamarla però io mi fiderei anche se ho dei premi sulla grafica che c'entra questa m perché non c'è non so il volto di henry cimler un bello 88 una cacca non so la monster deve chiarirsi le idee su come vuole cioè su che prodotto sta vendendo mmm sa dello scroto di goering o al sapore come quello del premio di himmler se preferite c'è una certa complessità di aroma allora prima di rispondere fate una bella cosa iscrivetevi al canale se non siete iscritti se siete iscritti mettete la cavolo di campanella mettete il mi piace mettete le cose se si seguite l'animazione che apparsa qua sotto insomma fate le cose che dovete fare va bene allora più punti di vista allora molto semplice io il consiglio che vi do mi sembra sia anche nel corso base di sceneggiatura è che dovremmo dare il punto di vista al personaggio protagonista il protagonista della storia ok una storia è qualcuno vuole qualcosa qualcosa gli si oppone per a terra ok non escludo di avere altri punti di vista ma ve li sconsiglio perché la storia è quella cosa c'enterebbe un'altra storia di una no il tuo personaggio ha una storia lui è il protagonista chi dovrebbe essere il punto di vista scusa se non lui quindi una storia un protagonista un punto di vista chiaro quelle cose del volere più punti di vista che no qui faccio una scena dove mostro ciò che lui non sa ma sa la domestica che poi viene assassinata quindi faccio un capitolo gesto con la domestica sono robe che tentano di imitare il cinema ne abbiamo parlato penso anche nella forse la domanda del video passato di due video fa non lo so quella della della per della barbara la cimera quella che aveva bisogno di sapere se una buona idea fare due punti di vista in terza persona e per uno in prima che rifonde no sono tentativi di rendere cose che non esistono e lì spiegavo la questione del non fate l'erroi di ragionare col cinema di ragionare con la telecamaneo tra stesso discorso qui quelle robe lì si possono fare nel cinema ho dettagliatamente spiegato la cosa nel corso avanzato di scrittura vi ho fatto gli esempi con la ricerca in libreria vi ho fatto l'esempio di come avrebbe funzionato un certo taglio di scene come non è realizzabile in narrativa perché viene uno schifo cioè puoi farlo o imitare il cinema con certe costruzioni un certo montaggio certe cose viene uno schifo però non è la stessa cosa narrativa cinema non è la stessa cosa narrativa e teatro non è la stessa cosa cinema e teatro seguete un po l'idea che media diversi vuol dire che esprimono le storie in modi diversi non possono esprimare lo stesso modo non ce la fanno quando lo fanno lo fanno segandosi le gambe praticamente ok quindi ti consiglierei quello poi la questione è sempre cosa intendi tu perché voi mi dite la storia raccontata la storia la storia termine tecnico se con cui mi dice la storia stiamo parlando con persone che ne sanno vuol dire l'arco di trasformazione di solo che voi probabilmente intendete storia con i macro eventi che non significano un cazzo ed effettivamente una storia come macro eventi che non significano un cazzo cioè sono eventi in senso cronologico può essere formato da tre archi trasformazioni distinti che quindi hanno tre protagonisti e a questo punto vi direi tre punti di vista chiaro oppure può essere che uno dei personaggi del conflitto di relazione quindi personaggio secondario ma molto importante abbia anche lui un difetto che lui sta vivendo in una fase ancora di resistenza di fallimento e che il superamento del difetto grazie all'aiuto e all'intercessione del protagonista mentre lui sta superando il suo difetto prima o dopo permetta a lui di superare il suo grazie all'intervento dell'altro e quindi di arrivare poi ad essere utile nel conflitto di relazione e a questo punto poteste avere quattro archi narrativi questa storia tre col punto di vista e il quarto arco che non è di un personaggio chiave ma è semplicemente strutturato così che se state a guardare vedete che oddio non ci sono tutti gli elementi perché non li vediamo tutti ma come vediamo in modo chiaro che c'è un midpoint vediamo in modo chiaro cosa succede dopo già capiamo e è di un personaggio che non ha il punto di vista lo vediamo sempre con gli occhi di un altro percepiamo quei sensi di un altro può essere questo caso in questo caso dico sì assolutamente tre punti di vista ci vogliono le storie sono quattro ma noi ce ne interessiamo in modo pieno dettagliando punto per punto tutti gli elementi all'arco del personaggio su tre di queste a queste tre diamo il punto di vista alla quarta che non dettagliamo di cui vediamo soltanto alcuni aspetti e di sfondo alle altre non diamo il punto di vista ok chiaro questa è la soluzione molto facile molto molto terra terra poi nel corso avanzato di sceneggiatura torniamo torneremo su queste cose con le con le lezioni opzionali che devo ancora fare torneremo su queste cose sicuramente penso che questi ragionamenti fondamentalmente saranno nella lezione sulle storie seriali e corali lezione molto importante in questo caso per storie corali e che altro vi posso dire allora al di là che sono colto da un insostenibile libidine di me stesso scusate un secondo quindi che altro ti posso dire unica cosa ti direi evita i punti di vista usa getta capisco che fruendo tanto di fumetti serie tv film siete stati è stato fatto il lavaggio del cervello sull'utilizzo di un certo approccio alla narrazione che però è legata a quei media e non c'entra con la scrittura dovete anche capire che se volete scrivere la logica che dovete seguire quella della scrittura che è una logica più immersiva e che permette meno di quelle robe lì che fanno i film che tante volte sono anche sbagliate c'è un sacco di roba nei film che se la togliessero sarebbe meglio se rimassero più focalizzati sul protagonista sarebbe meglio ok però siamo anche abituati che certe storterie certe robe che fanno un po cagare per consuetudine si fa così poi cominciano i film a non farlo più e la gente a distanza di 20 già perché 20 anni fa facciano i film così non so perché erano scemi che vi devo dire ai signori poi che altro ti posso dare come indicazione utile secondo me pensa bene se veramente bisogno perché tu mi dici ho veramente bisogno di due filtri due personaggi voglio che ci sia il nano l'equivalente del nano ghimli che è gecko il botto e non lo sa e deve scoprirlo grazie all'equivalente dell'elfo legolas che abbastanza effemminato da fare quel quel ponte che permette a glimi di scoprire la sua vera sessualità al tuo equivalente ghimli scusa di scoprire la sua vera sessualità e tu mi dici no però il mio pseudo legolas non 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 me la sento di cioè non ha un arco ma allo stesso tempo non me la sento di non dargli il punto di vista perché alcune cose che lui percepisce ci fanno capire meglio anche l'interiorità di ghimli perché vedendolo da fuori si coglie per un non detto che ancora più più calzante più importante del detto magari però raccontandosela in modo ipocrita che dentro ghimli lo pseudo ghimli e allora ti dico guarda la questione è semplice rendi più importante il tuo pseudo legolas ragiona che potrebbe essere una storia ecco altro esempio di due punti di vista ma una sola storia in un solo arco potrebbero essere coprotagonisti lui deve scoprire la sua sessualità in reale gli piacciono i culi maschili ok l'altro lo pseudo legolas deve che cazzo ne so qui il tema è il non mentire a se stessi la verità su se stessi l'accettare se stessi lui potrebbe dover accettare che non è sbagliato che se anche un uomo si vesta con l'ingeri femminile vada in giro vestito così anche se uomo accettare la verità su di sé e non vergognarsene e mostrarla al mondo fa un coming out uno per una cosa uno per l'altro ok benissimo sono coprotagonisti hanno sfumature un approccio una cosa al proprio difetto diverso che possono scoppire assieme perché il rapporto tra lo pseudo ghimlo pseudo legolas porterà pseudo ghimli grazie alla femminilità dello pseudo legolas ad accettare che si possono amare i maschi e questo primo passo lo porta ad accettare proprio questa cosa una cosa graduale il femminiello no no perché non ha fatto beh lasciamo stare evitiamo legolas lo teniamo che non sta facendo cose strane il nostro pseudo legolas nel fatto che l'altro comunque lo accetta anche se non è vestito da uomo può cominciare a trovare il coraggio di ma perfino sti nani buzzurri guerrieri che pensano sempre soltanto a riconquistare le antiche aule dei loro padri a moria porca troia è perduta smettete di rompere i coglioni anche se molto il barrog toglietevela questa cosa è piena di orchetti usando la traduzione corretta bisogna un metro un cazzo orchi usando la traduzione con esattamente felicissima ma va più di moda poi parleremo anche di queste cose in futuro e rinunciateci signori ecco legolas e perfino questi perfino un rappresentante di questa grandissima nazione di teste di cazzo alto un metro un barattolo arriva ad accettare che lui possa vestirsi con le calze con le calze a rete con la gpr altre come come sono conciate vabbè è l'unica cosa bella di laneggi due come conciate e questo potrebbe aiutarlo quindi nel loro loro si aiutano a vicenda a superare il difetto faranno squadra e tutto quindi vedete classica storia coprotagonisti e arma letale col nano e l'elfo fondamentalmente ok e questa può essere una formula in cui appunto ti va da incentivare del pensare non è secondario e stai andando il punto di vista senza motivo ecco protagonista oppure incentivarti a pensare magari non sono coprotagonisti ma forse ci sono due storie il top pseudo legolas forse devi approfondirlo di più sono due storie in parallelo potevo avere i capitoli alternati potevo due capitoli uno e uno l'altro due capitoli di uno e due l'altro un capitolo due capitoli un capitolo tre capitoli due capitoli non so quello che vuoi io preferisco la formula 111 ma vedrete poi nel romanzo di durigon in uscita a breve nei prossimi mesi spero l'anno dell'omuncolo vedrete un approccio ancora diverso entrambi sempre nel capitolo ma alternati ok perché c'è anche il significato di capitolo come quella vabbè sono cose che sono nel corso nel corso avanzato non ve lo sto a spiegare adesso e su come si ragiona cos'è un capitolo cos'è una scena è tutto nel corso e quindi ragione su questa cosa non stare a buttare subito l'idea di dire no faccio un solo punto di vista magari è meglio due con protagonisti o due archi narrativi chiaro bene spero che ti sia stato utile e ci sentiamo la prossima volta